L'anno scorso era stato processato e condannato dal Tribunale di Vicenza per istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, ma subito dopo aveva fatto perdere le sue tracce. Protagonista della latitanza è un romeno di 29 anni che deve scontare una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione. I carabinieri lo cercavano da quando era finito il processo e il suo nome da allora risultava nella banca dati delle forze di polizia con un provvedimento di arresto da eseguire, fino a quando l'uomo non è finito nella rete dei controlli della polizia austriaca. Il 29enne, che non ha opposto resistenza, è stato preso in consegna e trasferito nel carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine.